e ciao a tutti amici sono franco versa oggi siamo venuti io e filippo a fare un giro a piedi perché ha piovuto tantissimo quindi non abbiamo neanche mosso la macchina siamo in un boschettino dietro casa nostra e anche nelle grandi città ci sono ancora delle aree verdi per fortuna e quindi siamo venuti perché perché io provo ancora la osmo così gioco un pochino invece lui ha acquistato perché siccome gli piace fare foto di natura e avevamo una che abbiamo ancora una canon eos 100 di che avevo acquistato io e però soltanto da una entry level anche se abbiamo fatto delle foto perché abbiamo anche un obiettivo 300 ea lui piace un far foto di natura di animali e proprio per questo ha recentemente acquistato una eos r6 mark 2 e stiamo aspettando l'arrivo di un obiettivo sempre canon 200 800 che non è ne ancora disponibile neanche dal sito ufficiale cano e quindi stiamo così passeggiando per fare un po di prove nel frattempo ha acquistato un obiettivo canon 50 fisso e io ho avuto mi diverto a seguirlo se fra alcuni scatti carini pubblicherò poi in questo video e nel frattempo devo dirvi che ho utilizzato la pocket 3 come seconda telecamera l'ho portata è una galleria d'arte che ho fatto un'inaugurazione riprese e l'ho utilizzata fissa su uno stativo in alcuni parti con il trekking altre senza trekking e devo dire sono restato a bocca aperta perché ho registrato quasi un'ora di intervento e alla fine nel montaggio l'ho messa tutta perché era veramente di qualità e anche buona non dico come audio ma è servito solo per sincronizzarlo ma eventualmente si sarebbe potuto tenere invece la qualità reggeva tranquillamente con la sony anzi molto più luminosa della mia sony professionale e quindi ho dovuto anche poi bilanciarle in montaggio invece poi ho ripreso dei quadri delle cose che sono venute veramente eccezionali quindi come telecamera ve la consiglio assolutamente siccome tra un po' sarà il mio compleanno adesso in marzo e mi sto facendo regalare anche i filtri che dovrebbero arrivarmi al giorno nd perché effettivamente la camera ha una diaframma fisso 2 ecco cosa servono i filtri perché lei gioca con gli iso e gli altri valori con lo shutter e va accelerare per ridurre la quantità di luce che entra ecco perché i filtri nv ci permettono di abbassare la luce in ingresso e quindi avere un'esposizione più corretta giocando con uno shutter più lento e quindi non avere quei movimenti troppo decisi scattosi ma utilizzare anche un po di blur oltre che compensare un po anche i cieli adesso vi faccio vedere nel frattempo dove è Filippo ecco Filippo è avanti a me che sta guardando se vede qualche animale come vedete per terra ci sono veramente delle pozze incredibili d'acqua e così andiamo avanti in questa passeggiatina che sarà di un'oretta insomma ecco acquisterò anche la batteria aggiuntiva per proprio perché non avendo preso il combo io non ho nemmeno la batteria aggiuntiva quindi l'ho trovata a 69 euro e acquisterò quella per allungare un po la vita poi si potrebbe anche usare utilizzare dei power bank per lo stesso scopo di avere la telecamera con più durata invece se lo usiamo a cavalletto come ho fatto io a dire la verità ho fatto un'ora e mezza senza bisogno di batterie ausiliari cioè con la batteria interna e in full hd ma volendo potremmo anche alimentarla se si trova a cavalletto andiamo a cavalletto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alcuni scatti di Filippo ora fissi così con l'obiettivo 50 mm perché appunto stiamo aspettando l'arrivo del 200-800 e poi vi mostreremo anche la macchina e l'obiettivo. Grazie a tutti.